Bella vecchia Dora Pani, bentornati qui sul Dannelecranans e stiamo tornando oggi con disegna il Pokémon incredibile Comincio io come al solito, che in realtà no, comincia sempre lui Oddio, figo questo, eh? Che spettacolo, che spispitata Che gasolino Ok Che sta a fare? Una cosa un po' complicata, perché mi è venuto male lo stacco di... Vedi, la coscia Esatto, questo... Peccato di tutto il petto Ok, comunque già dai colori si capisce che Pokémon è... No, peccato già dai forme, cioè, non dai colori Incredibile Fantastico, guardalo, guardalo Beh, mamma, che... che geometria Mamma mia Faccio proprio schifo a disegnare Incredibile Va bene È lui Oh, cazzo, vabbè È lui È Porygon Quello che costava tantissimo comprare Vai, vai, vai A me è sempre più difficile Ovvio Vabbè, però così è a me È quella coda La coda perfetta, vedi? Che stai a fare? Vabbè, ma mi ha demolito tutto Comunque sì, è vero Porygon costava un fottio all'arcasino Eh, mo non ti posso rispondere Parla di Porygon costava un fottio all'arcasino Non si sa quanto mi si è chiuso Per poi scoprire che in realtà Potevi anche trovarlo durante il game Scambiandolo con uno che voleva Oddio, che cazzo voleva? Ditto? Ditto Lui ci ha usato la Master Ball per Ditto Però Ditto è a Go-Go Ma che merda Questo è il macino Ma che schifo Mamma, è orrendo Ma grazie Ma che c'è da che su una coda No, sulla faccia È tutta colpa tua No, se non merda Era Vulpix Dov'è essere un Vulpix Ecco Ciao Visti Pokémon Questo è il bello picciottore Fa cagare Questa è una bestia Questo Pokémon è il più forte che c'è Voi che faccia la cazzo Cioè, faccia la stupido Ho capito, ho detto la stupida Questo è quello che gli consegnava Tipo i lettere ad Ash Nel primo film Non è quello che gli consegnava Oh, oh, guarda la gamba qua Non è giusto Perché te, lo so Te hai fatto un corso di disegno Sì, sì Io, guarda Sono nato disegnatore Ma questo è Charmander con la panza Cioè, è vero Si capisce comunque Eh, sì È Dragonite O Dragonite Dragonite Però è figo di Dragonite Che è tipo Kriptonite Sì, perché c'ha L'infezione, capito C'ha la Dragonite E vabbè, andiamo avanti Bello Che padre Ma è difficile questo Cioè, è incredibile Sei riuscito a farlo male Vabbè, tutto niente è perduto Tutto niente è perduto Bene che modifo Dettagli perché Eccolo qua Poi c'è sta l'alone qua Che a me non facevo E quello è il sudore Che c'è Sudata la testa Quando usa autodistruzione Perché lui È sempre Il magnifico Voltorb Oddio Ma hanno aggiornato Hanno aggiornato Oh, stessi così Insomma, i capirali Cosa? Vi do un... È un fiore No, vi do un indizio È Frax Vabbè, hanno capito Praticamente cos'è Ma là che cazzo lo dici a fare? Eh, non fa niente Ma guarda quanto l'ho fatto male Ma che è? Non mi lo dà Michelin Che cazzo Sì, è più o meno Io ho dovuto qui Io ho dovuto sci Basta È un mitico Grandissimo Inimitabile Zorlax Lo sto svegliando Se svegliate È meglio che no Oh, è carino Ok È più o meno finito Sì Che sbocca E poi La ganja Geneticamente modificata È lui Incredibile È grandissimo Oddish Cioè, guarda Hanno disegnato meglio i bambini Super Che cos'è? Oppure hanno morito Che c'ha i bulbi C'ha i brufoli Che gli escono fuori Sì, invece che... Per cosa gli esce il gas? Non è che faccia di idiota Che c'ha sto con Sì Non è che la sua evoluzione sia meglio Vabbè, però almeno so tre, capito? Che so due Tre la pallano Nel coglione Viene dignamente modificato Ma pure le nuvolette si fa C'ho tempo, sai come Pure È una nuvola È una nuvola molto ambigua Nuvole di fumo Su Koffing che arriva E ti fa Fuori come Stephen King Come il suo Oh Andiamo al prossimo Pokémon Mazza, questo è facile Che ci vuole? Fai così 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 Poi È fatto Poi vedete con un pichello lì No, ho sbagliato Ma che è Ma che è Metapod? Pare Vediamo che così lo capite Calcolare è un misto tra Kakuna Metapod E Beedrill Cioè gli fai le ali Quale è Beedrill È lui È un po' Sapete com'è? Ha fatto un po' di dieta È un po' Porca Aspetta un po' Ah, dai io quitto Cioè io lascio bene Come faccio? Prova a fare il dettaglio Deve orecchie Magari Così capiscono Ma che è un ciclope? Ho sbagliato Posizione dell'occhio Vabbè è molto impettito Molto cattivo Capito? Faccio dominarli Magari capiscono No, non c'è poco Io sto regà Dai, era impossibile farlo Nito King Però Come cazzo lo fai? Vabbè, mette qualcosa di Ma che cazzo? Ma che cazzo? Dai, porco Dai, questo è difficile Eccolo Dai che ci sta tutto Dai Dai Ci siamo Ce la portiamo a casa Ce la portiamo a casa Eccolo, un naso Non è una bocca Lo so Come posso fare una piccola modifica? Ok Ora è perfetto Ora è un ductrio Un vero ductrio Hai capito? Ora è preso Un ductrio Che fai? Docca a me Cazzo voi E che ci ho fatto D'ultimo Cosa Vabbè, fallo dire allora Questo Vai Fa schifo Va bene Pokémon più inutile Della storia Eh, è stato difficile Capito quando Attaccare la testa Sì, è bene Tec Mu Eh, mu E che? Ssh La bocca La blasi Io Vabbè Ciao Sì Il si, penso che nessuno di voi l'ha mai avuto dentro la squadra perchè veramente no si, basta ho fatto una di troppo e boh ha maniato un po' diciamo ha appena mangiato era molto ferrato con le proporzioni di giro quello che si è colpa del cloro che lui sta in piscina ehi, quello che si è colpa del cloro giusto, onesto vaffanconso lui era olzeone diciamo in metà tra l'evoluzione e non hai capito, si sta per evolvere come cazzo faccio questo tre palle intanto al contrario di doctrio stiamo così non ho sbagliato pezzo stiamo così sti cazzo stai riusciti a fare anche positivo e negativo è incredibile, che fenomeno è lui, è magneton ragazzi il video è finito noi ci becchiamo al prossimo se vi è piaciuto lasciamo 5 di like e bella ciao